Il design è una disciplina molto complessa che per poter essere espressa ha bisogno di tante conoscenze riferite a tanti ambiti differenti e l'Isia di Roma dà l'opportunità di poter conoscere tutte queste diverse discipline, di poterle mettere assieme, di poter realizzare una sintesi per ogni studente adeguate alle proprie sensibilità. Nel mio corso ci occupiamo di progettazione consapevole, una progettazione che guarda alla contemporaneità, convinti che il design si occupi di contemporaneità e dei temi che riguardano tutti noi nella vita quotidiana. Nel prendere in considerazione questi ambiti ci facciamo guidare da importanti teorici del design come Andres Bonocchi che è stato anche un docente di l'Isia di Roma, ricreando in aula quello che avviene all'interno di un vero e proprio studio di progettazione con dei brainstorming collettivi e con un progetto finale svolto da ogni studente che riguardi però un tema condiviso, un tema affrontato insieme nel corso delle lezioni. L'obiettivo è quello di arrivare ad una progettazione il più possibile, completa e consapevole dell'incidenza che la progettazione stessa ha nella vita quotidiana di tutti quanti noi.